Le spiagge Guayabitos e Losayala, nel comune di Compostela, regione di Nayarit, sono stati chiusi al pubblico, dopo che nel fine settimana ci sono stati circa 165 casi di persone morse da murene. Attraverso una dichiarazione, il Segretariato per la Sicurezza e la Protezione dei Cittadini attraverso la Direzione Generale della Protezione dei Cittadini e dei Vigili del Fuoco ha annunciato la presenza di queste specie nel comune di Nayarit. I biologi specializzati suggeriscono che questo fenomeno ha origine da cambiamenti di temperatura nel mare o anche da eventi riproduttivi tra le specie, ha detto il Segretariato nel documento. Le autorità hanno esortato a prestare attenzione alle raccomandazioni e hanno assicurato di aver messo una bandiera viola nella zona, che indica la presenza di fauna nociva nel luogo. Come parte delle misure precauzionali per salvaguardare l'integrità dei visitatori e dei residenti, così come del personale di emergenza, hanno spiegato che per tutte le attività ricreative all'interno dell'acqua l'accesso è limitato. Este fin di settimana se registrò la presenza di peces morena in playa di Guayabitos e Los Ayala, nel municipio di Compostela, Nayarit. La Secretaria di Segurità e Prevenzione Ciudadana, a través della Direzione General di Protezione Ciudadana e Bomberi del Estado, informa che 165 persone hanno ricevuto attenzione prehospitalaria per mordeduras, per lo che il personal operativo di guardavidas realizza i operativi di prevenzione con recorrido di vigilancia e con la imposizione di banderas rojas e moradas per la concientizzazione di habitanti e visitanti sobre la presenza di questa specie e eventuali afectazioni che si possono ocasionare. Biosos especializzati della dependenza sugieren che questo fenomeno si origina a partir di cambiamenti di temperatura in il mar e anche per eventi riproductivi tra le specie. Se mantiene la bandera morada, la presenza di fauna nociva in il mar, in questo caso il pez morena, e come medida di prevenzione e per salvaguardare la integrità dei habitanti, visitanti e personal di emergencia, restringito il accesso di zona di nado come attività ricreativa dentro del agua. Se invita a la ciudadanía a no caer in informazione falsa e dar cumplimento a le indicazioni della Autorità di Protezione Ciudadana e Segurità. Para Jalisco TV Noticias, Juan Carlos Huerta Vázquez. Grazie a tutti. Alla male! Grazie a tutti. Grazie a tutti.